Musica Musica e 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 ma can the the sin Nee made the first steps the the is to make this place open for visits Noi crediamo che il lavoro che si dovrà fare è quello di aumentare gli spazi per poterli fare visitare a tutte le persone che si recaranno qui nella Rocca Magna, cioè nella Corte. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie! Grazie per la visione! Grazie! 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 Grazie a tutti! Grazie! 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 Oscar Davidi Grazie Grazie Scusami 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 Lidia Caterina Poi c'è Milos E poi c'è Diego Diego E Pinja Pinja Grazie 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 Grazie